In attesa della festa di liberazione di luglio, l'Associazione Combattenti e Reduci Subbiano e Capolona, rappresentata da Fabio Rizzo, ha riconsegnato alle associazioni combattentistiche e alle istituzioni il cippo ai caduti dell'Eccidio di San Polo, ripulito e decorato, per rendere onore alle 48 persone tra partigiani e civili che qui presso Villa Gigliosi vennero massacrati dai nazisti il 14 luglio del 1944. È stata una piccola opera che abbiamo fatto grazie a un artista che ha pulito e l'ha fatta anche con passione. Tutto questo sono piccoli significati, piccoli gesti per mantenere la memoria avanti nei tempi. Le nostre sezioni, come vediamo oggi qui quella di Subbiano, è presidio nel territorio per la salvaguarda delle memorie e per trasmettere ai giovani certi valori e certi principi. Le prove di quello che realmente è successo è fondamentale, soprattutto in un mondo dove si vive nella fantasia, si vive con i social, non si ha la percezione di quello che ci succede intorno realmente, non si vive più nemmeno di rapporti umani come c'erano una volta. Quindi deve essere ancora più forte una testimonianza concreta e realistica e soprattutto legata anche alle prove umane. L'Ampi ora ha costituito un archivio e ha la tutela dello Stato questo archivio. In questo archivio sono raccolti 64 faldoni e in ogni faldone c'è una particolare memoria di formazioni partigiane, uccisioni, fucilazioni, stragi e tanti uomini e giovani che hanno perso la vita.